GF VIP 2017 Gossip News è polemica tra i Rodriguez e la D'Urso. Chi sono i finalisti del Grande Fratello GF VIP News 2017 Belenna la finale diventa un giallo Chi sono i finalisti del Grande Fratello GF VIP 2? Qual è il VIP preferito sul forum del Grande Fratello al momento è un testa-testa tra Giulia Delellis e Daniele Bossari. I due sono i più votati, con il 44,76% e 31,60%. E in vantaggio Giulia, più staccate Ivana e Aida. Paura per Giulia che ha avuto un malore nella notte all'interno della casa del Grande Fratello VIP. La Delellis si è svegliata all'improvviso accusando una forte tachicardia. Tra i primi a soccorrerla sono arrivati Raffaello Tonon e Luca Onestini. La Delellis è poi andata nel confessionale dove ha potuto usare un apparecchio per la misurazione dei battiti. Onestini, odontoiatra, ha confermato il battito accelerato e le ha consigliato di stare tranquilla per i prossimi giorni. Belen Rodriguez non sarà ospite nella finale del GF VIP 2, prevista lunedì 4 dicembre 2017 su Canale 5. Il piccolo giallo è durato 24 ore, poi la precisazione su una fanpage Instagram dell'Argentina, tra i commenti anche quello di Gabriele Parpiglia, giornalista del settimanale diretto da Alfonso Signorini, nonché firma di uno dei pezzi sui Rodriguez, nonché fra gli autori del GF VIP non sarà ospite. È stato un errore di battitura in macchina del giornale. Spiegheremo sul prossimo numero chi grazie mille. Quindi non si tratta di una bufala, di una notizia inventata, ma di una grossolana svista. Il racconto piccante di Ignazio in particolare, i telespettatori e gli opinionisti sono curiosi di sapere cosa ha pensato Cecilia quando ha saputo che Ignazio Moser ha rivelato dettagli sulla loro prima notte di passione all'interno della casa del GF VIP. Diciamo che il rapporto è durato molto poco aveva detto Ignazio a Giulia e Ivana. Se lasci un bicchiere sotto la pioggia per dieci minuti si riempie poco, se lo lasci fuori 53 giorni. Insomma, l'ex ciclista aveva usato una metafora non troppo carina nei confronti della modella argentina. Cecilia ha commentato le frasi di Ignazio senza arrabbiarsi, si è svuotato ha detto la verità. A margine del GF VIP 2017 scoppiano le polemiche Il cantautore e compositore albanese naturalizzato italiano Ermal Meta ha pubblicato un tweet contro il grande fratello VIP, che ha scelto la canzone piccol'anima come colonna sonora del video dedicato a Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. L'artista non ha apprezzato la scelta degli autori e ha espresso il suo dissenso sui social con un chiaro riferimento allo scandalo dell'armadio. La coppia, infatti, è stata accusata di essersi appartata nel guardaroba per un rapporto orale. È polemica anche tra Rodriguez e Ladurso. Cecilia e Jeremias Rodriguez non hanno accettato l'invito di Barbara D'Urso nella trasmissione domenica live, perché i fratelli Rodriguez non hanno accettato l'invito della D'Urso. La prima frecciatina è stata della conduttrice che ha affermato ringraziando Dio facciamo il 22% di share. Anche senza i Rodriguez, i fratelli argentini hanno rilasciato le loto motivazioni del rifiuto in un'intervista al settimanale Chi quando sono uscita dalla casa del GF dice Cecilia Ho sentito nei programmi di Barbara D'Urso frasi impronunciabili, devastanti. Frasi che offendono non solo me, ma tutte le donne. Ho subito violenza verbale, una violenza che fa male, per la quale ogni donna si dovrebbe sentire indignata. Mia madre ha sofferto, mia sorella anche, e alle parole della D'Urso, Cecilia Rodriguez replica Lei afferma che fa share senza di noi, eppure fa la puntata parlando solo di noi. Invita persone che parlano di noi, fa talk show che parlano di noi, parlano opinionisti che non ci conoscono, ma parlano, anzi, sparlano di noi. Ma è normale ma sono io a pensare che tutto questo non segue una logica. Anche Jeremias Rodriguez ha commentato con il settimanale Chi l'episodio La mia famiglia, e in particolare mia madre, hanno sofferto davvero per gli attacchi che mia sorella ha subito Io non cerco la popolarità alza share, non so nemmeno che cosa sia lo share Ho visto però che nella mia famiglia questa situazione ha creato un forte disagio, un grande dolore Per me può anche fare il 100% di share, ma giù le mani dalla mia famiglia Ho parlato con i miei e abbiamo capito che alimentare le polemiche significava solo fare il gioco che una certa tv impone Quindi, sa che le dico Amen Comunque volevo comunicare che viviamo lo stesso con o senza la d'urso